Trasporti, novità per studenti pendolari e nuove linee. Si potrà viaggiare con 5 euro per una settimana. Introduzione di nuove linee urbane e modifiche in alcune di quelle esistenti. Sono alcune delle novità nel trasporto pubblico locale introdotte da oggi e che sono frutto della concertazione tra il settore mobilità e trasporti e la SAIS Autolinea, la società che si occupa del servizio in città. Le nuove linee attivate sono due e riguardano gli studenti delle frazioni che devono raggiungere Siracusa. Da Belvedere ogni giorno partiranno due mezzi, entrambi alle 7, per effettuare il cosiddetto giro scuole. Le corse di ritorno alla fine delle lezioni sono invece sfalsate, una alle 13.45 e una alle 14.20. Anche dalla Cassibile ogni mattina partiranno due mezzi, ma in orari differenti, alle 6.50 e alle 7.05. Tre invece le corse per riportare a casa gli studenti, alle 13.15, alle 13.55 e alle 14.20. Il servizio è gratuito fino al secondo anno delle superiori, mentre per chi frequenta gli anni successivi è previsto un abbonamento. Una metà importante riguarda la linea 107 Grotta Santa Costiera. Introdotta la scorsa primavera, non effettuerà più corse solo dal lunedì al venerdì perché il servizio è stato esteso anche al sabato, alla domenica e ai giorni festivi. Le partenze da via Rubino sono alle 8.10, 9.20, 10.30, 12.50, 14.00, 16.20, 17.30 e 18.40. Cambiamenti da oggi anche per la 105 Santa Lucia che consentirà ai passeggeri di raggiungere l'ingresso di Ortigia. I bus infatti, prima di finire la corsa in via Rubino, compieranno una deviazione imboccando via Malta per poi tornare indietro lungo Corso Umberto e dirigersi al Capolinio. Inoltre, gli uffici informano che sono state apportate delle variazioni agli orari di tutte le linee, ragione per cui si consiglia di consultarli sul sito saizautolinea.it oppure sull'app che si può scaricare dagli store dove intanto è stato perfezionato il sistema di infomobilità per conoscere gli orari di arrivo dei bus alle singole fermate. Infine, dal lunedì prossimo al fine giorno 22 sarà possibile viaggiare sui mezzi urbani con pochi euro. In occasione della Settimana Europea della Mobilità, su richiesta del Comune per promuovere il servizio, la SAES ha deciso di scontare il prezzo del biglietto con soli 5 euro. Per l'intera settimana sarà possibile viaggiare su tutte le linee senza limiti di orario. I titoli in un'ottica green di sostenibilità potranno essere acquistati solo online e scaricati sugli smartphone.